Aspetta! Ok! Aspetta un attimo! Stai facendo il video dell'animale con la rabbia? Sì! Fai l'animale con la rabbia, Eric! Di più, di più, più rabbioso, più rabbioso! Alzate adesso però! Alzate adesso! Ah, ma perché stai facendo un video? Sempre con la rabbia, eh! Adesso ce la farà, guarda! Oddio, cazzo, non c'è il terreno sotto! Eh, non è rabbiosa però! E c'è la frecce! Alè! Fatta! Un commento voi due, un commento! Cazzo quanta neve! C'è un certo gente, bisogneria legarla! Bravo!